Fotografie di minorenni in pose sexy, alcune anche nude. La polizia postale ne avrebbe trovate migliaia, più qualche decina di video, nei computer di casa e dell'ufficio di un quarantenne di Pianiga, titolare di un'azienda nel settore della verniciatura. Le indagini sono scattate nell'ambito di un'inchiesta condotta dalla procura di Roma e hanno chiuso il cerchio proprio attorno all'uomo arrestato in flagranza di reato. Gli agenti hanno sequestrato i computer, poi è stato sufficiente l'analisi degli harddisk interni per trovare tutto il materiale pedopornografico. Venerdì l'imprenditore comparirà di fronte al giudice per la convalida dell'arresto. Nel frattempo le indagini continuano per capire la provenienza di foto e video e soprattutto per accertare se il quarantenne abbia o meno a sua volta condiviso i file in rete attraverso qualche programma di sharing. In questo caso infatti la sua posizione potrebbe ulteriormente aggravarsi. Grazie per la visione!